Buonasera, buonasera ancora insieme a voi questa sera per aggiornarvi su purtroppo sull'emergenza coronavirus ci sono anche nuove disposizioni che arrivano dalla regione Lombardia c'è purtroppo la settima vittima che è una vittima in Lombardia è ancora una volta collegata alla zona rossa si tratta di una donna di 62 anni di Castiglione Dadda nel Lodigiano che è morta all'ospedale di Codogno quindi in ogni caso in qualche modo sembra essere sempre circoscritta la diffusione del virus alla zona rossa ovviamente però continuano le precauzioni anche nella zona gialla quindi anche in tutta la Lombardia ne parliamo questa sera, parliamo dei risvolti politici, economici, sociali e parliamo soprattutto dell'aspetto sanitario per questo abbiamo invitato a trovarci ancora una volta abusiamo della sua presenza il dottor Pierangelo Clerici buonasera, bentornato, ormai lui vive qui praticamente non lo dica mia moglie perché altrimenti perché era qui anche venerdì sera, poi ci siamo collegati anche con Nova Stadio presidente dei microbiologi clinici italiani, grazie per essere qui con noi Diana De Marchi, Partito Democratico, buonasera buonasera Alan Rizzi, sottosegretario di Regione Lombardia che adesso ci darà delle nuove disposizioni appunto della regione ben ritrovato anche ad Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle ma anche lei è medico quindi abbiamo anche il suo apporto scientifico Samuele Piscina, buonasera, ben ritrovato presidente Municipio 2, buonasera, ben ritrovato allora io partirei da Alan, partiamo dalle nuove disposizioni perché c'è questo nuovo decreto della regione Lombardia che parla sostanzialmente sempre per le riunioni agli uffici pubblici e attività di front office intanto chiedo alla regia se possiamo mandare in onda il numero verde che è quello dedicato dalla regione Lombardia per le urgenze e per le informazioni siccome inizialmente avevate detto di chiamare il 112 ma adesso il numero 112 è intasato perché ovviamente lo chiamano anche quelli che hanno una rapina o hanno altri tipi di emergenze allora per la regione Lombardia per tutte le urgenze e le informazioni fate questo numero 800 89 45 45 oltre al 1500 che è il numero però nazionale corretto? quindi questo è il nostro noi trasmettiamo principalmente in Lombardia anche in Piemonte e in Emilia Romagna ma siccome l'emergenza è soprattutto in Lombardia questo è il numero della Lombardia ed è stato potenziato così come ha detto oggi l'assessore Gallera in conferenza stampa alle 5 e me perfetto quindi questo ci garantisce che il servizio possa essere utile perché un sacco di gente è spaventata in queste ore girando per Milano poi adesso faremo vedere i nostri servizi si è visto anche tanto panico sto parlando della gente in giro per le strade con le mascherine della gente che svuota i supermercati quindi sicuramente c'è un panico diffuso che è superiore alla necessità che c'è assolutamente sì quindi noi questa sera però c'è anche l'altro numero l'800 io non lo so a memoria è quello che ho citato io Diana è quello lì 80089400 io ho proprio spiegato di non fare il 112 non mi ha ascoltato stavo cercando le informazioni nuove per rispondere questo numero lo lasciamo fisso tutta la sera così chi ci guarda sa che può chiamare quel numero allora adesso poi parliamo dell'aspetto sanitario io prima volevo sapere dal sottosegretario Rizzi se c'è qualche informazione nuova ci sono solo dei chiarimenti rispetto all'ordinanza di ieri sera quindi riguardano le manifestazioni fieristiche le fiere quelle vengono ovviamente assolutamente è stata disposta la chiusura i consigli delle giunte comunali si possono fare quindi sono tutte disposizioni legate al chiarimento di quella che è stata l'ordinanza di ieri legata alle attività commerciali i bar e i ristoranti la differenza i ristoranti per esempio possono rimanere aperti i bar e i bar invece i bar e i pub alle 18 chiudono alle 18 chiudono poi c'è la tipologia delle tabaccherie senza bar le tabaccherie senza bar possono rimanere aperte le tabaccherie con i bar chiudono alle 18 però scusa Alan se non ci sono urgenze particolari di questo aspetto parliamo dopo le ha già detto oggi l'assessore poi ci torniamo sull'aspetto di aggregazione sociale detto così in maniera semplice volevo partire dall'aspetto sanitario diciamo settima vittima e al momento a me risultano 172 contagiati nella nostra regione questa è una stima fatta alle 19.30 spero che durante la diretta non si modifichino i dati sono tutti collegati al focolaio? molto probabilmente sì ma non dobbiamo preoccuparci del numero di contagiati dei positivi noi dobbiamo preoccuparci del numero dei malati e poi dei malati gravi perché il numero dei positivi che andiamo ad individuare più ne cercheremo soprattutto nella zona rossa probabilmente ne troveremo servono per delimitare proprio il cluster la zona dove si può diffondere il microorganismo per cui non dobbiamo confondere i positivi con i malati i positivi sono coloro che albergano il microorganismo nel loro faringe nel loro naso faringe facciamo un esempio concreto è possibile che ci siano dei positivi totalmente asintomatici e che quindi non sanno di esserlo? che scopriremo quando andremo a fare ulteriori indagini probabilmente di screening ma è corretto quello che sta facendo la regione Lombardia adesso cioè noi abbiamo una zona che ha d'alto rischio e che dobbiamo contenere per cui dobbiamo focalizzarci lì che è la zona rossa cioè la zona degli undici comuni poi se recuperiamo la cartina che abbiamo utilizzato venerdì la facciamo vedere qualora ci fossero altri focolai andremo ad allargare in questi focolai gli screening considerate che quando un paziente però si presenta seppur della zona rossa perché possono essere usciti nei giorni scorsi all'ospedale X il personale che purtroppo si trova davanti a questo paziente viene tutto comunque indagato per il coronavirus quindi il meccanismo ha gradini correttissimo quello che si deve fare non si fa il test a 60 milioni di persone quindi quello che ha detto Gallera oggi ha detto il tampone adesso non lo facciamo più assolutamente ecco diciamo questa cosa spieghiamo il termine di comunicazione è importante chi ha i sintomi consiglio di chiamare il numero verde perché poi vengono a casa a farti il tampone o addirittura ti prelevano e ti portano in un ospedale sì Gallera oggi diceva che non te lo fanno subito il tampone prima ti lasciano in isolamento due giorni vedono se ti sale la febbre c'è una motivazione fondamentale perché se io ho avuto il contatto con una persona e quindi chiamo il numero verde il 112 o il 1500 dichiaro che sono stato a contatto con una persona che si è rilevata positiva non è detto che facendo subito il tampone lo trovi il microorganismo almeno 48 ore devono trascorrere allora c'è un motivo il sistema di corridoio sanitario esce l'automedica esce l'ambulanza si fa il tampone è perfetto non deve muoversi non muovete il paziente non si muove non muovete allora chiunque abbia o perché sta male o perché è stato vicino a uno che sta male non muovetevi fate quel numero spiegate e loro vi diranno state tranquilli veniamo noi oppure non fate niente quindi quel numero ci sono degli esperti che vi spiegano quello che dovete fare seguito dall'ATS direttamente devi provarti la febbre due volte al giorno sei monitorato anche a distanza assolutamente sì e dopo il tampone viene fatto nel momento corretto e decide l'ATS va bene questo perché ieri è venuto sospetto a noi maliziosi che non ci fossero tamponi siccome ieri il sindaco di Codogno il sindaco di un paesino era collegato con il programma di Fazio e ha detto non ho più non ci sono tamponi Burioni si è si sono rizzati i capelli in testa non è vera sta cosa beh gli hanno chiesto anche oggi quindi si sono rizzati i capelli in testa rizzati ormai ce li ha anche oggi è così no assolutamente è perché c'è una profilassi diversa no è che no no è chiaro perché se te lo fanno subito magari viene negativo e tu sei positivo esatto e poi devi ripetere lo devi farlo due volte diciamo che se prima gli facevano subito i tamponi a prescindere adesso si utilizza una metodologia diversa appunto che è quella che diceva il dottore poco fa perché comunque bisogna aspettare che ci siano i sintomi bisogna vedere passare quel tot vedere se c'è la febbre eccetera eccetera allora dopo si fanno i tamponi ma anche perché fare i tamponi subito immediatamente vuol dire avere tantissimi tamponi e dover esaminare tutti quanti e vuol dire allungare l'attesa per avere anche i risultati dei tamponi e per quelli che magari stanno male esatto cioè perdi tempo per chi sta bene un'analisi che comunque consta dai sui 12 tamponi analizzati dura circa tre ore e mezza allora uno può avere una batteria di strumentazioni 4 o 5 ma al limite ne fa 36 48 e i centri di riferimento oggi hanno centinaia e centinaia di tamponi da analizzare per cui arrivano a distanza i risultati ma è tutto nella norma non dobbiamo preoccuparci questo questa cosa rassicura molto seconda domanda pratica medica questo famoso paziente zero questo paziente zero siamo tutti alla caccia ho sentito galera che diceva non è più tanto importante cercarlo ormai a questo punto per ricostruire la catena epidemiologica visto che i casi comunque si sviluppano tutti nella zona di Codogno facciamo finta che non esista un paziente zero ma che tutta la zona sia da considerarsi se non zero uno e tra Vò e Codogno c'è un collegamento oppure no Vò e il comune nel Padovano l'altro popolare ho letto una notizia di stampa e quindi non so se anche voi ne siete a conoscenza sembra che un agricoltore di Vò era Codogno perché andava a fare il proprio lavoro e sembra che fosse però stiamo nel campo cioè un agricoltore di Codogno era Vò era Codogno perché chiaramente c'è stato il mercato del grano piuttosto che delle mucche non lo so e poi è ritornato è una fiera importante a Codogno quindi questo sembra potrebbe essere un collegamento però in questo momento tutto ciò che transita tra Codogno e Vò in un triangolo ideale diventa la possibilità l'unica cosa certa è che non è il paziente zero questo sicuro quello che si pensava che lo fosse l'agricoltore ah no l'agricoltore no perché quello che si pensava che lo fosse questo 41enne manager tornato dalla Cina sta benissimo quindi ed è negativo è negativo soprattutto però il fatto che stia benissimo ma è negativo sta bene ed è negativo esatto quindi non è lui quindi non può essere lui al test anticorpale è negativo anche a quello a tutto e quando tu contrai il virus e guarisci non sei più proprio la stessa persona ti rimangono gli anticorpi certo e gli hanno fatto anche quel test corpale e non c'era quindi lui non è il paziente zero non sembrare l'hanno ancora rilasciato è ancora prigioniero al sacco come la ricerca del santo graal adesso mi permetto di scherzare però questa è la casa sua a letto mi dormiva non deve aver passato dei bei momenti lo salutiamo se ci guarda buona ragione gli hanno dato dell'untore per giorni e giorni va bene ancora due cose tecniche a lei glielo richiedo per l'ennesima volta però il rapporto con l'influenza normale perché in questi giorni per chi segue la vicenda c'è stata questa lite sui social tra la professoressa Maria Rita Gismondi dell'ospedale Sacco che presumo lei conosca perché anche lei è una biologa e Burioni che conosciamo tutti quanti allora lei la Gismondo dice in fondo si è scambiata un'infezione poco più seria di un'influenza per una pandemia letale state tranquilli è un po' minimizzato Burioni ha detto cosa stai dicendo non è vero dove sta la verità ma questa è una domanda lo so glielo avranno già fatta tu Burioni è però dottore lei è qua non la chiedo alla De Marchi la chiedo a lei ha un grandissimo ha un grandissimo merito di aver combattuto i Novax quindi grandissimo scienziato la professoressa Gismondo in questo momento è strafogata di lavoro sotto pressione tutto il nostro rispetto perché sono sotto pressione io credo che come noi tra virgolette operatori sanitari e scienziati chiediamo alla politica di parlare all'unisone di non fare polemiche anche da parte nostra non si dovrebbero fare polemiche in questo momento c'è bisogno di compattezza su tutti è chiaro che questo è un virus simile influenzale è nuovo questa è la differenza sostanziale per cui siamo un pochettino più preoccupati i casi se andiamo a controllare la letalità di questo virus non sono assolutamente preoccupanti magari potremmo essere smentiti fra 48 ore ma al momento quello che ci dice la scienza i report epidemiologici sono una letalità che è al di sotto del 2% assolutamente mentre l'influenza normale l'influenza normale fa dal 4 al 5% che sono 8000 morti dichiarati ogni anno per complicanze dell'influenza stagionale dove esiste una vaccinazione qual è la differenza sostanziale? che il virus influenzale è un virus verso il quale ci può essere una terapia quindi se uno prende l'influenza va in una situazione grave viene trattato certo hai la vaccinazione che è una profilassi attiva perché? perché lo conosci dalla primavera precedente perché si sviluppa però nonostante questo ci sono più morti perché sono le complicanze sono sempre pazienti anziani con comorbidità immunodepressi immunodepressi o cronici o pazienti cronici cronici però pazienti immunodepressi comunque debilitati e poi è più diffuso fino ad oggi però il dato degli 8000 decessi per complicanze dell'influenza è un dato ormai stabile se poi 8000 ogni? ogni anno ogni anno alla fine stagionale se poi si va su epicentro si va su epicentro il discorso la diatriba è nata per la lettura di questi dati sì epicentro che è il ministero di sospensione dichiara che in una determinata settimana dell'anno perché fa l'analisi di tutte le settimane del 2020 ci sono stati 100 e passa casi gravi di influenza e 30 decessi poi ci sono dei report che ti dicono la mortalità prese 19 città campione stata di 217 morti che molto probabilmente sono ascrivibili in parte anche alle complicanze di influenza e raggiungiamo gli 8000 all'anno come è la realtà per cui è una lettura è una lettura dei dati che ognuno tira la giacchetta dove vuole però però a noi dei numeri non ce ne importa nulla cioè a me importa sapere qual è la cosa più più pericolosa in questo momento lei dice che il livello di mortalità è più alto nell'influenza assolutamente dove peraltro esiste una profilassia attiva che è la vaccinazione però allora io le rifaccio la domanda che le ho fatto l'altra volta per chi non ci ha guardato se non è così letale perché queste misure così tremende? perché è la prima volta che ci troviamo davanti a questo tipo di virus è un virus che è sconosciuto o quantomeno nella sua totalità di azione è un virus che colpisce le vie profonde respiratorie mentre il virus influenzale alberga nelle vie superiori questo scende profondamente questo scende da una SARS questo è un simile SARS all'80% del genoma della SARS il problema è che il numero elevato di morti che si è avuto in Cina ha scatenato il panico globale l'organizzazione della sanità ha fermato la situazione ha detto attenzione non parliamo di pandemia parliamo di epidemia parliamo di situazioni correttamente ora anche lì bisognerebbe analizzare i numeri perché 2700 decessi ad oggi in Cina su circa 80-85 mila ricoverati malati accertati ma su una popolazione di 1 miliardo e 400 milioni di persone cosa rappresenta come natalità forse meno del 1% per cui veramente non c'è motivo di generare panico ok va bene chiarissimo scusate ho dato più spazio a lui perché doveva dare le informazioni cliniche principali poi da qui iniziamo il discorso mando la fascia e poi ci ritroviamo tra poco allora sottosegretario Rizzi ma che differenza c'è tra epidemia e pandemia perché anche lì qua dicono non è una pandemia è un'epidemia quindi è un dato rassicurante l'avete detto anche voi no certo allora innanzitutto a conferma di quello che è stato detto prima oggi possiamo dire che non ci sono assolutamente nuovi focolai e questa è una notizia molto positiva la differenza ovviamente visto che tutte le iniziative che il Regione Lombardia insieme al Ministero della Salute hanno messo in atto sono dettate dalla necessità di circoscrivere questa diciamo diffusione del virus io sono convinto così come ha detto lo stesso Fontana oggi ma anche lo stesso Gallera che sono molto fiducioso affinché questa iniziativa questa diciamo ordinanza che ha una vita di sette giorni si esaurisca all'interno di questi sette giorni perché il messaggio che è stato dato oggi cioè tutti i nuovi contagiati tra l'altro arrivano dalla zona rossa quest'altro è un'altra cosa positiva assolutamente non ci sono nuovi focolai ecco può essere circoscritta il fatto è sicuramente positivo tutto quello che è stato scritto all'interno dell'ordinanza che oggi ha avuto la necessità di una serie di specifiche nei dettagli e quindi riguardo a quello che ho detto prima i bar le tabaccherie sono provvedimenti giusti la regione Lombardia sta andando ed è andata nella direzione giusta è ovvio che adesso sta la coscienza di ciascuno degli attori presenti sul territorio a renderla attiva cioè a fare esattamente quello che c'è scritto nell'ordinanza se tutti diciamo contribuiscono affinché questa ordinanza sia espletata nelle sue forme io sono convinto che che si riesce a contenere assolutamente perché una delle domande che sono apparse per il dottore che rivolgo anche a tutti è quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità allora questa è una domanda da chi vuole essere milionario la sfera di cristallo la sfera di cristallo non ce l'abbiamo però ragionevolmente considerando un tempo di incubazione di 14 giorni con le misure prese nell'arco di poche settimane si potrebbe tornare alla normalità poche settimane cosa vuol dire? posso essere le due settimane che ci aspettano io penso che la prossima settimana proprio a buon senso visto che quelle sono le due settimane previste di incubazione mi pare strano che duri una settimana sola penso che anche la prossima debba essere collegata dipende se si sviluppano dei casi al di fuori della zona rossa perché la zona rossa evidentemente rimarrà di più ci mancherebbe ma la zona gialla in realtà se non si sviluppano casi all'interno della zona gialla non ha senso andare avanti con l'ordinanza che sulla zona gialla cioè l'idea è Schiavone sentiamo anche Schiavone dal punto di vista politico ma anche medico cioè ha senso prolungare l'ordinanza anche la prossima settimana è questo che ci stiamo chiedendo voglio fare una premessa importante la pericolosità adesso mi spiace che qui ho tutto questo ottimismo e io mi spiace fare il guastapesco però la pericolosità del covid-19 non è legata al tasso di mortalità tra parentesi non è neanche il 2% perché il 2% è in media con la Cina mi sembra quindi sennò sarebbe ancora di meno non è legata questo è legato al 20% di casi che devono essere messi in terapia intensiva perché l'80% ora sapete quanti posti abbiamo di terapia intensiva in Lombardia 900 adesso con 170 pazienti abbiamo 27 se non sono cambiati abbiamo 27 posti di terapia intensiva occupati i cinesi l'hanno capito benissimo perché sono lì cosa hanno fatto? hanno costruito un ospedale nuovo noi non siamo in grado di farlo e questo perché se noi saturiamo il sistema sanitario con questi casi di terapia intensiva possiamo avere dei grossi problemi quindi è un'infezione di un virus sconosciuto sconosciuto e non sappiamo bene come funziona e quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo poi c'è un'altra cosa quindi è molto pericoloso quindi tu dici un problema è il fatto che mancano le strutture un problema con l'aumento con la moltiplicazione dei contagi non sappiamo dove metterli questo esattamente perché è difficile isolarlo questo è la prima cosa la seconda beh allora fino al 20 di questo mese dicevamo che il virus non era in circolo i dati che avevamo perché la scienza non ha la palla di cristallo la scienza prende i dati risponde a questi dati e formula delle ipotesi delle teorie che poi vanno a finire in cose concrete fino al 20 non sapevamo niente dal 21 1, 2, 3 casi in 48 ore 150 casi ora lo sviluppo di così tanti casi e soprattutto di casi che sono molto avanzati clinicamente ti lascia supporre che questi casi erano già in giro da un po' probabilmente sono di seconda generazione quindi il paziente zero comincia a diventare molto più superficiale scoprirlo è più importante fare dei modelli matematici già ci stanno lavorando cosa vuol dire pazienti di seconda generazione? allora beh perché non so se voi avete capito io no perché qualcuno l'ha già fatto precedentemente io vengo contagiato ho una gamma di amici magari voi siete i miei amici e io vi contagio tutti prima generazione poi il collega va a casa la famiglia e contagia i suoi amici e la famiglia seconda generazione capisci che trovare me diventa molto importante dal punto di vista della tradizione biologica ma non è così importante infatti vedrete che adesso cominceranno a sorgere dei modelli matematici che ci permettono di captare di cercare di capire lo sviluppo di questa epidemia poi sul discorso tra epidemia e pandemia allora chiaramente l'OMS deve giustamente dire che non è io all'inizio l'OMS era partita dicendo ma no non è una cosa importante ci ha ripensato giustamente noi dobbiamo cercare di minimizzare la cosa dal punto di vista diciamo della clinica però noi dobbiamo ricordarci che le persone non hanno bisogno non sono bambini di 5 anni non è che dobbiamo dargli una pacca sulla spalla dobbiamo dargli delle informazioni molto corrette perché se noi gli diamo un'informazione dicendo guarda che non succede niente poi quando esplode qualcosa però mi sembra che la regione Lombardia sia agendo in un modo allora la regione adesso arriviamo anche a questo la regione Lombardia adesso sta agendo veramente bene secondo me queste sono le cose che bisogna fare noi contro questo virus abbiamo solo due armi uno è la diagnosi e il tampone io ho sentito dire bisognava scannerizzare le truite però come parlavamo prima col collega all'inizio i test erano molto specifici e poco sensibili non erano adatti a uno screening di massa e quindi non si poteva fare ma adesso sono più precisi poi abbiamo anche il test degli anticorpi dobbiamo cercare di fare una cosa molto importante fare una diagnosi precoce ovviamente precoce non significa subito appena chiama con le dovute cose mantenere le persone a casa non farle andare in giro non farle andare al pronto soccorso anche questo l'abbiamo ripetuto cento volte e poi abbiamo un'altra un'altra arma fondamentale dell'unica che abbiamo quella dell'isolamento del contenimento l'unica cosa che stona in questo discorso è se queste persone veramente secondo me dal numero di casi ci sono già in giro da un po' noi non possiamo sapere se sono uscite o no dalla zona rossa ce lo dirà solo il tempo solo il tempo ce lo può dire ma certo io dico che un'ordinanza di sette giorni non è sufficiente dovremo avere un periodo più lungo per una valutazione epidemica corretta beh ma sicuramente se deciderete di prolungarla di una settimana lo capiremo venerdì o sabato senza dubbio loro devono fare per gradi non è all'ordine del giorno però è chiaro che in base ai dati che avrete ah beh certo domani domani facciamo le corde c'è un'altra notizia in Fausta e subito certo che se domani ne trovano dieci a Milano e dieci a Monza è chiaro speriamo proprio di no anche perché e poi voglio dire una cosa importantissima allora la paura delle persone è legittima è legittima la prudenza è doverosa il panico in questa situazione è decisamente fuori luogo non ci aiuterà mai noi non dobbiamo dire un bravo medico pensa bene ma si prepara sempre al peggio qui noi dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo mandare dei messaggi molto precisi un'informazione molto corretta e molto semplice perché io parlo con tantissime persone e uno dice una cosa uno dice un'altro e questa confusione li manda perché la paura è data da quello che non conosciamo noi dobbiamo arrivare con un'informazione precisa collaborando tutti perché il virus non vota non è di destra non è di sinistra non vota la Lega non vota la Lega non vota la Lega e far arrivare alle persone queste informazioni in modo sale che sappiano quelle 4-5 cose importanti non di più che devono fare quelle misure che devono perché se no qui no no ok è chiaro no io sono le informazioni sono le stesse cose che ripetiamo in continuazione adesso poi ridiremo dottore ci aiuta anche lei lavarsi le mani non toccarsi la bocca gli occhi lo ripetiamo guardate lo ripetiamo posso aggiungere posso aggiungere una brevissima cosa su questo a proposito di informazioni che devono arrivare a tutti c'è un tema che mi è stato segnalato effettivamente è un problema capisco che è una minoranza ma siccome tutti devono essere informati l'ordinanza non è stata fatta e non c'è stato modo di trasmetterla in lingua LIS per esempio nella lingua dei segni ed è un problema ma non è un problema di regione Lombardia è un problema nazionale che questa cosa è trascurata conosciuta in Italia però di fatto questo è stato un tema che mi hanno segnalato siccome mi sto occupando questo Alan si può provvedere oggi abbiamo provveduto a fare la traduzione in inglese per quei consolati ma qui non parliamo di inglese parliamo di gente sorda che non riesce a seguire è un tema che vi pongo all'attenzione ci siamo preoccupati di fare la traduzione in inglese che è già importante e adesso la farete anche vi prego di provvedere brava questa è una segnalazione corretta è vero magari si pensa sempre che anche una persona che non sente ha in famiglia una persona che sente e glielo traduce però dare le indicazioni almeno quelle dieci raccomandazioni che sono essenziali proprio per quella chiarezza che lui giustamente prima citava bisogna fare in modo che ce l'abbiano ok tutto chiaro pubblicità poi vado a piscina e poi voglio sapere di nuovo ma anche questo lo chiariamo perché così tanti in Lombardia e poi perché c'è la teoria di Conte cioè ci sono tanti contagiati perché ci sono tanti controlli è credibile oppure no cioè in Francia mi risulta che abbiano fatto solo 400 tamponi ecco perché ci sono meno malati ma questo vuol dire che ci sono lo stesso i contagiati non si sa o i contagiati non ci sono dopo la pubblicità allora poi vi do di nuovo il vademecum dei comportamenti da seguire con le 10 regole più semplici prima però la frase quello che dice Conte noi abbiamo tanti contagi perché facciamo tanti controlli dottore secondo lei il termine è anche scorretto perché contagi non vuol dire il caso positivo noi ritroviamo il numero di positivi il numero importante perché facciamo tante indagini allora il titolo sarebbe ci sono tanti positivi perché ci sono tanti controlli lo possiamo correggere se si può in regia contagio è una cosa di manzoniana memoria ha ragione ha ragione quindi facciamo ci sono tanti positivi perché ci sono tanti ed è giusto è una legge matematica che esiste in microbiologia in virologia e in medicina quando io vado a cercare trovo sappiamo che il meningococco responsabile della meningite alberga dall'8 al 10% nelle persone che comunamente circolano quindi se io vado a cercarlo lo trovo non posso dire che un milione di persone ce l'ha perché non lo cerco materialmente ma so dalla proiezione matematica che c'è lo stesso vale in questo caso se io cerco trovo i modelli matematici che sta lavorando il Royal College in Inghilterra dimostrano questo cioè più cerchi più troverai positivo ma allora attenzione ribadiamo positivo non è malato l'80% lo fa anche in maniera inapparente due starnuti 36 e 8 37 37 e 2 non se ne accorge nemmeno si autorisolve la maggior parte delle malattie infettive non parliamo di Ebola ovviamente ma si autorisolve non so saremo tutti ammalati 365 giorni ma quindi il fatto che siamo i terzi dopo Cina e Corea del Sud vuol dire che siamo quelli che controlliamo di più perché stiamo monitorando e il ministero le regioni hanno costituito una cabina di regia importante per cui si stanno verificando le situazioni è quello che dice anche l'area capo lo dice anche l'area capo io sono orgogliosa di questa situazione adesso con tutte le difficoltà che capisco che possa portare però sinceramente se penso di essere un'eccellenza perché sto facendo un monitoraggio che è più attento ma dai credo che sia un bene per tutti perché magari lo fermiamo cioè il tema è capire come fermare ma perché in Francia se ci riuscissimo sarebbe un successo l'importante è che il monitoraggio l'importante è che il monitoraggio come ha deciso la cabina di regia il sito di supervisionità protezione civile sia declinato in maniera adeguata dalle regioni come sta facendo la regione Lombardia obiettivi ben precisi questo è perfetto se qualcuno pensa di farlo su tutta la popolazione in questo momento sta sbagliando completamente non puoi andare in Campania assolutamente lo fai in Lombardia e in Veneto perché ci sono i fuoco ma in alcune zone eviti che vada in Campania eviti che vada in Campania quello di Codogno che è andato ad Avellino ho capito però è su questo che stiamo andando stiamo cercando l'estero umano l'estero umano è particolare è proprio per questo che la gente non dovrebbe avere il panico perché stiamo dimostrando sistema paese con regione Lombardia perché è in regione che stiamo lavorando bene non lasciamo nulla al caso alla fantasia è tutto costruito in maniera razionale regione Lombardia a contatto diretto con gli esperti del settore per elaborare non dico di ora in ora ma di mezza giornata il bollettino lo fate ogni ora mi sembra il bollettino lo fate ogni ora almeno tre volte al giorno cioè i primi due giorni era ogni ora adesso io sono veramente non lo dico perché devo chietare le acque ma cerchiamo di essere tranquilli e razionali diciamo che sono meno tranquilli quelli che hanno delle attività commerciali adesso è un altro problema adesso ricordiamo i comportamenti da seguire allora lavati spesso le mani lavaggio la disinfezione delle mani sono decisivi le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno venti secondi anche qua io di solito tre secondi ho finito no a mochina adesso puoi prendere una mochina che non si trova da nessuna bisogna speculare sono fermi fermi il dottore per i bambini una cosa per i bambini che la diciamo alla Nicole una volta la mamma gli dica conta fino a 20 mentre ti lavi le mani il bambino lo apprende e conterà sempre fino a 20 solo che lo deve aver appreso prima l'adulto perché questo è un problema mi affia salta dei numeri ancora quindi va bene non è un problema se non sono disponibili acqua e sapone è possibile utilizzare anche il solito disinfettante ok lavarsi le mani elimina il virus elimina il virus questo è fondamentale anche i batteri tutto tutto evita il contatto avvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone in particolare quando tossiscono starnutiscono o hanno la febbre perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva che può essere trasmesso a distanza ravvicinata spieghiamole che le mascherine quelle di carta non servono a un tubo assolutamente le mascherine servono per coloro che sono infetti o sospetti di avere l'infezione che poi il personale sanitario che deve trattare queste persone debba essere dotato di tutti i presidi i dispositivi in disabilità di protezione è più che corretto mascherine negli ospedali posso però ti chiedere una cosa ma le mascherine quelle corrette quelle a un figlia col sito che ha dei rifiuti che su Amazon non si doveva dire costano un miliardo ormai anche lì come la mucchina ma posso chiedere una cosa proprio da ignorante perché oggi io ho preso la 91 in un orario in cui avevano tutti la mascherina era vuota tantissimi la mascherina e chi non aveva la mascherina si copriva con la sciarpa no io sono rimasta perché non avevo nessuna delle due cose ho visto quasi che mi guardavano strano e mi sono messa anche la sciarpa no ma quello che poi mi hanno spiegato è che per chi ha l'influenza il raffreddore banalmente lo facerei in realtà per non per proteggere dai propri germi le persone vicine assolutamente altrimenti quindi ha quel senso lì non che si tutela se no la mascherina dovremmo indossarla 365 giorni l'anno ma siccome l'influenza adesso ce l'hanno in tanti ha anche senso cioè io vi metto quella mascherina lì e se sono infetta non infetto gli altri però non è che non la prendo però se lo fai per gli altri è comunque utile poi non toccarti occhi naso e bocca con le mani il virus si trasmette principalmente per vie respiratorie ma può entrare nel corpo anche attraverso occhi naso e bocca quindi evita di toccarle con le mani non ben lavate ok quindi questo è importante e poi quando stanno tisci aspetta fammelo dire numero 4 copri bocca e naso se stanno tisci o tossisci se hai un'infezione respiratoria acuta evita contatti ravvicinati vabbè questo chi è che l'ha scritto mi sembra abbastanza ovvio ministro della salute tossisce tossisce all'interno il gomito chi è che mi fa la fai il così perché io l'ho fatto aspetta che ti passa la regia vai così mi ha tossire e stanno tirare così bene è fantastica questa probabilmente monouso indosso una mascherina e lavati le mani se ti copri la bocca con le mani potresti poi contaminare le persone se invece te le copri così non contamini nessuno anche questo ai bambini bisogna insegnare sì assolutamente il bambino la prende subito se insegni che deve starnutire in questo modo lo farà per tutta la vita assolutamente segnate ai bambini capito alla Nicola insegna la starnutire così le mamme sono preoccupate perché si sporca a Mattia insegna così poi 5 questo qua mi sembra però giusto dirlo non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti al medico perché uno va in farmacia e dice buongiorno mi dia un antivirale a parte che sono farmaci che non possono essere non ti possono dare neanche esatto però magari uno si prende l'augumentin no fermi non prendete l'antibiotico anche l'antibiotico deve essere prescritto sì beh però se il farmacista ah e poi sui virus non serve a niente i farmacisti amici ti danno tutti l'antibiotico non serve sui virus per niente assolutamente per contro i batteri no sai uno preso al panico dice mi riempio di augmentin ah no guarda che come se riempio di farfalle dipende barilla non è assolutamente scontata la cosa infatti sei pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol i disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina cloro, solventi, etanolo 75% acido peracetico e cloroformio il tuo medico il tuo farmacista sapranno consigliarti è tutto esaurito io non so anche lì bisognerebbe la candeggina compri la candeggina ah bravo anche l'ipoclorito di sodio è la normale candeggina quindi scorte di candeggine puliamo tutto esatto la candeggina 7% usa la mascherina solo se sospetti di essere malato assisti persone malate quello che dicevi prima tu lei ci diamo del leo del tu non lo so perché con loro ci diamo del tu assolutamente 8% i prodotti made in china i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi io ho ordinato un pacco l'ho raccontato lui presa dal panico non andrai mai a riferarlo l'ho buttato sì ma perché ero in un momento di l'ho sbagliato lo riconosco quindi se vi arrivano dei pacchi per la Cina no ma io faccio sempre outing 9% gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus questo è importante questo l'hai letto a posto io e te siamo tranquilli io e te siamo tranquilli beh anche tu assolutamente noi tre abbiamo il cane quindi è il momento questo al momento l'avevo letto non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati da virus tuttavia è sempre bene lavarsi le mani ma questo in generale non per il coronavirus 10% sono norme di gine basilari che andrebbero seguite non solo perché quest'anno il coronavirus tutti i dieci coloro che riscontrano riscontrano sintomi influenzali devono chiamare quel numero lì che sta scorrendo a nausea mettetevelo scrivetevelo da tutte le parti va bene non chiamate il 112 chiamate quel numero verde questo da oggi sì perché fino a ieri si poteva chiamare il 112 ma il 112 comunque serve anche per altro mentre il 1500 è nazionale mentre questo è nostro perché le informazioni questo è di regione Lombardia questo è di regione Lombardia se avete due linee di febbre se avete parlato con uno che insomma tutto quello che invece di fatemi prendere dal panico telefonate lì e vi sapranno consigliare sa qual è il primo riscontro di tutto questo decalogo che la gente non si stringe più la mano non si abbraccia più è vero cosa che comunemente noi facevamo anch'io anch'io questo è questo è da livello sociale scegliere però no scherzo io ho dato la mano e ho abbracciato tutti però questo terminerà probabilmente torneremo a una socialità fisica assolutamente se lo guiamo forse apprezziamo ancora di più la nostra modalità di essere sociali socievoli no ieri mi dicevano prima ci sono i social non so twitter instagram facebook adesso questo ci allontaneremo sempre di più l'uno dall'altro questa cosa filosofica che mi è stata detta però non è neanche sbagliata però se le mettiamo in contumaccia si avvicina inventeremo nuovi saluti inventeremo nuovi saluti non c'è problema inventeremo nuovi saluti tipo nano nano quando eravamo giovani tu sei troppo giovane va bene mandiamo la pubblicità poi facciamo il punto parliamo anche di economia e vediamo anche se il governo ha sbagliato qualcosa come gli rimprovera Salvini oppure no a tra poco allora poi parliamo dei negozi dell'assalto ai supermercati prima però volevo toccare un argomento politico che riguarda gli altri paesi per come piscina parto da te per come si stanno comportando nei nostri confronti oggi è arrivata questa notizia di questo volo italiano alla Mauritius che è stato i Lombardi e i Veneti sono considerati potenzialmente infettivi quindi sono stati rimandati indietro di ieri la notizia del vagone del treno al Brennero fermato per non farlo passare un pullman a Lione fermato anche quello il governo francese ha detto Camentone faranno i controlli quindi veniamo trattati noi un po' come tra virgolette gli appestati in qualche modo innanzitutto mi stupisce il fatto che adesso in tutta Europa in tutto il mondo si siano svegliati per il coronavirus fino a quando anche perché fino a pochi giorni fa nessuno faceva nessun tipo di controllo io ho un'amica che sto facendo avanti e indietro da Vienna a Milano perché lavora a Vienna e poi nel weekend torna a Milano mi diceva che non hanno mai fatto un controllo nel momento in cui lei arrivava a Vienna quindi la questione diciamo è sicuramente gestita male a livello europeo e l'Unione Europea dovrebbe fare adottare delle misure che siano in comune di tutti i quattro gli stati per prevenire cioè che non la Francia faccia una cosa e l'Austria un'altra esattamente è quello che si chiede prevenzione ed è quello che tra l'altro la Lega chiedeva nel momento in cui ha chiesto anche che fosse sospesa Schengen ma non perché non potesse più arrivare nessuno ma perché si permettesse di avere dei controlli più stretti su chi arrivava e chi andava via in ogni paese del mondo non solo d'Europa Conte ha detto che non è il momento di sospendere Schengen Conte ha detto che non è il momento sta di fatto che sicuramente se si sospendeva Schengen anche perché comunque ricordiamoci che chi arriva dalla Cina perché il virus è partito dalla Cina quindi in questo caso parliamo della Cina non viene direttamente con un volo diretto a Milano non ci sono i voli diciamo purtroppo ci sono le triangolazioni ci sono le triangolazioni ci sono gli scali quindi sbarcano solitamente in Europa a Amsterdam piuttosto che a Berlino piuttosto che gli scali internazionali e solo successivamente prendendo un altro volo arrivano all'interno dell'Italia ed è per quello che andavano prese delle misure più serie dal punto di vista della prevenzione non è stato fatto benissimo più serie cosa vuol dire perché ad esempio una cosa che io continuo a leggere è che il governo ha sbagliato a bloccare i voli internazionali proprio perché ci sono le triangolazioni doveva fare come gli altri paesi che mettevano in quarantena tutti quelli che arrivavano ma non è vero cioè a me non risulta che la Francia o l'Olanda abbiano fatto queste cose ma non è che gli altri paesi l'abbiano fatto quindi diamo un'informazione corretta assolutamente c'è stata una definizione quindi cosa che abbiamo fatto di diverso dal punto di vista europeo noi abbiamo chiesto delle misure straordinarie perché tutto sommato si poteva prevedere che saremmo arrivati un pochino a questo punto nel momento in cui fosse sbarcato il virus comunque l'avrebbe stato portato in Italia quindi abbiamo preso delle misure abbiamo chiesto di prendere delle misure più serie ovviamente detto questo non si può dire che a livello europeo a livello mondiale siano state prese delle misure più serie rispetto a quelle che abbiamo preso noi in Italia senza ombra del virus questo è già una notizia questo è un dato rifatto adesso si stanno svegliando tutti quanti e il che mi fa preoccupare perché vuol dire che a livello mondiale comunque la situazione è stata presa molto ma molto ma molto sotto gamba una cosa che in realtà volevo dire anche per cercare di calmare un attimino la situazione tra i cittadini la corsa e i supermercati i supermercati rimangono aperti la regione Lombardia non sta pensando minimamente a quella che è una quarantena della città di Milano quindi non vi preoccupate cibo ce n'è si può andare a prendere da mangiare tranquillamente al supermercato senza il rischio di correre di non trovare più cibo cose di questo tipo e Se Lunga ha dovuto diramare addirittura un comunicato in cui diceva non vi preoccupate di cibo ne abbiamo in abbondanza questo è psicosi non lo sapevo e Se Lunga ha rilasciato stasera problemi di questo tipo assolutamente non ce ne sono supermercati rimangono aperti i ristoranti sono aperti quindi non vi preoccupate manteniamo la calma certo bisogna adottare delle misure di prevenzione in modo tale che non si diffonda il virus e misure contenitive senza ombre di dubbio ma da lì a chiudersi in casa con la mascherina non uscire più andare a fare la scorta di cibo ci sta di mezzo un oceano proprio l'ha detto anche Sala infatti l'ha detto anche Sala ecco facciamo così facciamo un salto dai sentiamo Sala così interrompiamo il discorso tra noi sentiamo anche Sala che oltretutto ha anche detto invece di pensare a riempirvi i carrelli pensate agli anziani che sono le categorie eccolo qua più fragili sentiamo Sala e poi continuiamo a parlare il governo e soprattutto la regione Lombardia che ha deleghe in materia di salute hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del coronavirus vorrei dire una cosa molto chiara e semplice all'inizio e cioè queste regole non si discutono si applicano cosa farà il Comune di Milano cercherà di far funzionare i servizi al meglio al momento pulizia trasporti sicurezza stanno funzionando i nostri uffici sono aperti siamo qua per fare il nostro lavoro fino alla fine permettetemi di chiudere con un piccolo consiglio qualcosa anche di personale però riflettiamo sul fatto che piuttosto che pensare di correre nei supermercati ad accappararsi alimenti forse spendiamo del tempo per prenderci cura di quelli più gracili i nostri anziani in particolare che sono soggetti a rischio questo è quello che fa una società sensibile dottor Clerici è d'accordo sicuramente sono parole condivisibili di buon senso assolutamente questo è fuori discussione ma quello che ha fatto la regione Lombardia con l'ordinanza che il sindaco ha ripreso è la verità atteniamoci a queste regole applichiamole fiduciosamente non andiamo ad accapparrare cibo e quant'altro nei supermercati io guardi scherzando oggi dicevo a un amico guarda io mi auguro che tutta questa gente che è corso ad accapparrare domani abbia il frigo che si rompa il frigorifero fuori che riesca a consumare il cibo vada tutto a scadere no che poi dottore se hanno comprato la carne e salta al congelatore è una roba terribile non so se aveva mai capitato ma non esiste è un non senso non si comprende la molla che ha fatto schiavone secondo te perché è successa questa cosa dell'assalto ai supermercati è successo perché le persone non riescono a percepire bene quello che succede ed è sicuramente colpa nostra che non riusciamo a fargli arrivare un messaggio positivo prima io poi ho finito l'intervento e non vorrei aver lasciato un messaggio troppo pessimista ci sono anche tra tutti noi però è giusto ma io sono realista allora c'è anche da dire che nel 2002-2003 a giugno-luio la SARS è scomparsa con l'arrivo della primavera noi non conosciamo bene questo virus ma per motivi che ancora la scienza dibatte non so il tasso di umidità il calore il fatto che è molto probabile la mancanza di vitamina D inverno questi virus hanno una vita più facile invece con l'arrivo della bella stagione oggi c'erano 20 gradi lei ha detto una cosa la mancanza di vitamina D adesso domani c'è l'assalto la vitamina D no per il sole noi la sintetizziamo ecco dici che faranno perché già io mentre lei parlava io pensavo ce l'ho a casa la vitamina D stanno googlezando dove si prova la vitamina D sì sì ce l'ho la vitamina D ho il barattolino comprato a New York così efficace ce l'ho ce l'ho e poi ci sono degli studi ce lo manca e poi ci sono degli studi su dei farmaci antivirali che riguardano l'HIV che noi potremmo magari cercare mancano degli studi in vivo però noi potremmo cercare di utilizzare per questa malattia inoltre secondo me tra magari non tra qualche mese come dice continuamente il governo cinese però tra un annetto potrebbe arrivare un vaccino e a quel punto abbiamo vinto siamo felici però noi dobbiamo gestire da qua adesso all'estate è la gestione questa quella che si fa con l'isolamento quello che si fa come sta facendo giustamente la regione Lombardia e via via man mano che arrivano i dati bisogna reagire di conseguenza ma questa è l'unica cosa che possiamo fare non abbiamo altre cose ma soprattutto trasmettendo un'informazione semplice e corretta che è quello che cerchiamo di fare allora adesso parliamo dei negozi aperti negozi chiusi giustamente Piscina sei partito dai supermercati perché l'hanno questi scaffali vuoti anzi abbiamo il servizio facciamo così mandiamo la pubblicità poi abbiamo il servizio che abbiamo anche un'intervista a una signora una titolare di un bar che dice qua non viene più nessuno c'è anche quel problema però poi bisogna rispondere anche a tra poco certo tutto allora a parte i paesi stranieri che non ci vogliono c'è la notizia che anche a potenza non so se l'avete visto hanno respinto gli avvocati di Milano c'erano due avvocati di Milano che dovevano andare a fare un processo li hanno rimandati è una sorta di rivincita del sud vi ricordate quando c'erano ancora i cartelli non si affitta ai meridionali di memoria degli anni 70 non voglio dire cos'è Adriana penso che abbiano capito tutti quelli che ci seguono quindi non voglio dirlo perché sarebbe un insulto è molto di più di una rivalza è qualcosa di è sbagliatissimo fare così però il Lombardo in questo momento fa paura è totalmente sbagliato è un messaggio totalmente sbagliato però adesso ti mettono in quarantena quindi ci sono però io volevo proprio agganciare quello che diceva prima Piscina perché un po' rientra in questo cioè quello che manca e che è mancato sicuramente ma continua a mancare è una condivisione anche di politiche di prevenzione perché se pensi che vai all'aeroporto vai a Linate ti misurano la febbre quando arrivi però quando parti non sai arrivi a Parigi a Bruxelles non succede niente non lo so se te la misurano adesso se arrivi da Milano ma non lo fanno adesso da Milano a Vienna per esempio non lo facevano esatto non lo stanno facendo cioè ci vorrebbe una politica anche che quello che dice Walter Ricciardi che è il nuovo consulente che ha nominato Speranza che serve un coordinamento esatto ma scusa ma guarda che quello che dice Conte vuol dire che qualcuno sta sbagliando perché a me non qua non qua dalle altre parti certo vuol dire che dalle altre parti ci sono dei contagiati ma non facendo diciamo le verifiche che facciamo noi dei positivi come diceva il dottore questo è quello che voglio dire se quello che dice Conte è vero è così però anche all'interno però ha un problema enorme a livello europeo dei viaggiatori diciamo di chi viaggia all'Europa non hai la stessa la stessa pratica di convenzione non lo troverai mai se fosse come dice Conte il paziente zero potrebbe essere arrivato dalla Francia dalla Spagna o da qualche altra o dall'Africa da qualsiasi parte però se non si mettono d'accordo nel seguire le stesse indicazioni è difficile poi trovare anche il paziente zero in Europa ed è per questo che io dico che è totalmente ingiustificato quello che è successo alla frontiera in Austria quello che è successo a Lione e quello che è successo cioè il fatto che ci mandano indietro assolutamente certo perché non c'è una norma che seguono tutti nello stesso modo io su questo sono d'accordo cioè bisogna ragionare però loro proteggono i loro confini io capisco anche che loro abbiano paura facciano prima di tutto le verifiche all'interno del proprio paese se vogliono difendere i propri confini quindi secondo voi stanno sbagliando io sto solo dicendo sto interpretando le parole di Conte se Conte ha ragione Conte è il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri vuol dire che noi facciamo le verifiche e gli altri paesi non le fanno o comunque che non le stiamo facendo tutti nello stesso modo che sta dicendo Conte vuol dire che l'untore in questo momento diciamo quello che ha portato il virus in Italia potrebbe essere un altro assolutamente capito comunque le procedure di aeroporto hanno avuto una grande fortuna che nel caso di Focolaio aspetta aspetta non parlate tutti assieme le procedure negli aeroporti dovrebbero essere unificate per misurare la temperatura attenzione non è sufficiente misurare la temperatura e certo se uno è asintomatico perché nel momento in cui uno è asintomatico per 14 giorni cioè chi proviene da determinate aree è evidente che debba esserci un minimo di prevenzione e pertanto diriva bene tu arrivi però magari sei un attimino rinchiuso in casa sì sono d'accordo però tu arrivi te la provano ma non ti chiedono da dove quando partono è quello il problema cioè è troppo vaga anche in Italia abbiamo trattato delle misure in più rispetto agli altri paesi però sono misure che a conti fatti non sono sufficienti perché nel momento in cui provi la febbre alla persona entra non ha la febbre è asintomatico dopo 14 giorni gli viene la febbre al coronavirus è chiaro che tu non sai neanche questo qui che giro che ha fatto è evidente forse un qualcosa in più si può fare a livello italiano e molto di più si deve fare a livello europeo e internazionale se siamo già avanti a livello italiano diciamo che prima bisogna metterci tutti sullo stesso piano e poi procediamo però la politica dell'aspettare che tutti gli altri si seguono non funziona perché lo stiamo vedendo quello che noi abbiamo fatto fino adesso non è stato sufficiente a quanto pare beh insomma se siamo quelli che stanno facendo un monitoramento sì però siamo anche quelli che ci hanno uno stato di allerta e ma ce l'hanno perché stanno monitorando cioè torniamo è come il dato che si mangia la corda noi non lo sapremo mai perché finché gli altri non monitorano però scusate però è arrivato qui e di conseguenza quello che stiamo facendo si deve fare di più a livello di prevenzione comunque qua mi dicono la regione Lombardia sta agendo ma scusate fermi fermi scusate l'autista di Lione che è stato rimandato indietro qua mi dicono un autista di autobus se ha la bronchite e stia a casa non va da tossire mentre guida nel senso che lo so però in un momento del genere se uno c'è una tosse forte non si mette a guidare un autobus carico di persone cioè anche questo scusate nel buon senso anche dalla psicosi però certo fino a un mese fa però non poteva tossire finché gli pareva sì un po' è la psicosi un po' io posso dire da insegnante che spesso e l'ho fatto anche da mamma tra l'altro si mandano a scuola figli e figlie che non sono proprio in condizioni perfette perché perché tanto se no ma poi perché non sai neanche come gestire altrimenti c'è anche un dato di realtà beh si potrebbe aprire però un dibattito esatto le condizioni perfette io sono d'accordo sono d'accordo però qua ti chiedono semplicemente di stare attenti se invece appunto hanno un po' di febbra in questo momento di particolare c'è una tensione se uno c'ha la tosse eviti di fare un lavoro sociale però sarebbe meglio non mandarli sempre quando hanno la tosse perché comunque la passano agli altri andiamo avanti Conte settimana prossima o questa settimana non ha tutti i ministri dei paesi confinanti all'Italia ecco affronti il tema se veramente ha ragione Conte ponga le domande all'interno di quella rignone eh sì anche perché ripeto questo Ricciardi il nuovo consulente per la salute ha proprio questa idea del coordinamento delle regioni in Italia anche di un coordinamento europeo quindi speriamo lui è membro del board dell'OMS per cui il problema è che l'OMS è la persona giusta non è riconosciuto però come un organismo politico decisionale per cui non ha competenze sui singoli stati devono essere tutti d'accordo sono quelle situazioni di conflitto però il discorso del termoscanner era l'unica cosa che in quel momento potevamo fare il termoscanner sarebbe la temperatura la temperatura e a tutti coloro che però giungevano dalla Cina chiaramente il rischio delle triangolazioni è ovvio però veniva consegnato e veniva fatto un interrogatorio su dove sarebbero andati cosa avrebbero fatto nelle settimane successive per cui una regola di monitoraggio c'era quantomeno è stato già qualcosa non è stato probabilmente sufficiente però si è cercato di intervenire con le misure che si potevano attuare in quel momento i termoscanner oltretutto non c'erano a disposizione una misura sufficiente per costruire nemmeno gli aeroporti italiani o quelli europei comunque la realtà è che noi eravamo tutti impreparati ma i francesi sono stati tra virgolette più fortunati non so poi quanti casi di positività possono avere perché l'unico focolaio l'ha generato un turista inglese che è andato a trovare degli amici in uno chalet in Alta Savoia e ne ha contagiati otto me li hanno blindati in uno chalet in Alta Savoia subito bravo e lì li hanno beccati su noi siamo stati fortunatissimi che abbiamo avuto la detonazione in un ospedale che è il posto peggiore dove può succedere perché da lì perché questo 38enne di Codogno non aveva capito che cosa aveva è per fortuna ha una moglie che si è accordata di un incontro che però probabilmente non è quello però allarmato è allarmato almeno almeno sì è un controllo va bene vediamo il servizio di Massimo Scarinzi su Milano la Milano deserta di oggi risveglio anomalo per Milano poche persone in giro per le strade della città resistono soprattutto i turisti che chiudono la settimana della moda e ripartiranno nelle prossime ore traffico veicolare ridotto al minimo stessa situazione nelle metropolitane questa è la linea 1 la rossa stazione Duomo poco dopo mezzogiorno treni semi vuoti e stazioni deserte per precauzione chiusa anche la cattedrale i pochi turisti si godono la splendida giornata primaverile nella piazza centrale di Milano stesso scenario anche nelle stazioni ferroviarie a Cadorna tradizionalmente presa d'assalto dai pendolari oggi vive invece una giornata di quiete totale in via Dante al castello pochi passaggi anche se il numero di mascherine è esiguo tra i milanesi le scuole di ogni ordine grado sono rimaste chiuse non riapriranno prima di lunedì prossimo sospese tutte le manifestazioni previste tra cui quelle legate al carnevale così come le attività sportive e gli eventi culturali nei musei i servizi pubblici funzionano regolarmente ATM AMSA e i servizi comunali non subiscono interruzioni per le emergenze e solo per i casi particolarmente gravi le istituzioni invitano a chiamare il 112 mentre si invitano i cittadini che abbiano necessità di informazioni di contattare il numero 1500 attivato dal Ministero della Salute o l'800 894 545 per chi manifesti sintomi influenzali allora sintomi influenzali o informazioni che riguardano appunto il coronavirus sul numero che compare in sovraimpressione non più 112 non più 112 c'è il messaggio importante non usate il 112 solamente per questioni di pubblica sicurezza di altro non per quanto riguarda il coronavirus voglio chiedere a Piscina che Presidente di un municipio questa cosa che viene annullato anche il carnevale annullate tutte le manifestazioni è un danno anche sociale forse no? poi dopo parliamo anche dell'aspetto economico sicuramente i cittadini comprendono perché nel momento in cui devi contenere quindi evitare dei momenti nei quali ci sono grandi masse di persone che non si conoscono e che si incontrano tutti in un luogo in un punto e quello è proprio l'unica cosa da evitare cioè la gente vada a lavorare utilizzi i mezzi vada tranquillamente in giro con tutte le accortezze possibili immaginabili però i luoghi di socialità i pub le discoteche i luoghi dove c'è una grandissima concentrazione di persone pensa che siano le prime cose che assolutamente sono da evitare è chiaro che noi addirittura abbiamo annullato gli eventi del carnevale abbiamo chiuso i CAM che sono i centri creativi multifunzionali i centri creativi giovanili come municipio 2 ancora prima che ci fosse l'ordinanza di Regione Lombardia perché una volta che avevamo capito un attimino qual era la situazione avevamo già ben inteso che qualcosa si dovesse fare a evitare questi momenti di socialità bisognava agire immediatamente e non lasciare che la comunicazione fosse fatta in ritardo ma per il semplice fatto che comunque sappiamo che Regione Lombardia aspettava ancora la firma da parte del decreto e quindi sapevamo che i tempi non erano subito immediati e volevamo comunicare subito la chiusura e il rinvio di questi eventi era fondamentale e rimane fondamentale certo è chiaro che è un disagio noi avevamo già assegnato quelli che erano tutti quanti i bandi per fare le iniziative lo rinvieremo il carnevale ah ecco non è annullato no 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 quindi possiamo rassicurare anche i bambini rinviati dobbiamo ovviamente decidere con le varie associazioni che hanno vinto i bandi quando farli però li rinviamo penso che sia uno sforzo che i cittadini tranquillamente possano fare a fronte comunque di una necessità di pubblica sanità che è sicuramente più rilevante rispetto a un'iniziativa di carnevale dopo le 18 la chiusura dei pub dei bar tra l'altro abbiamo ricevuto già segnalazioni su alcuni bar pub in via Padova che sono rimaste prontamente segnalate la polizia di stato poco fa però c'è anche questo tema il tema dei controlli che deve essere assolutamente fondamentale e sappiamo che ovviamente la polizia di stato è in difficoltà spero che la polizia locale subito nell'ora notturna dove c'è più difficoltà ad avere patrulli la polizia locale aiuti di più la polizia di stato perché c'è bisogno di un controllo capillare molti commercianti potrebbero non rispettare quelle che sono le misure di prevenzione cautelative che sono state previste dal governo e dalla regione Lombardia quindi è fondamentale i controlli nel momento in cui veramente ci fosse qualcosa invece di chiamare il 112 magari scriveteci sulla pagina facebook e cerchiamo un attimo noi di veicolare la notizia ai presidenti di zona perché chiamando in continuazione il 112 per ogni locale capite che poi diventa abbastanza problematica la questione certo però domanda i ristoranti no cioè i bar ai pub chiusi dopo le 18 i ristoranti no e da quello che ho capito perché nel ristorante c'è più spazio quindi se io la De Marchi andiamo al ristorante insieme abbiamo un metro di distanza mentre al pub abbiamo 50 cm ma guarda ma scusami ma ci sono dei ristoranti dove stai stretto ma il governatore Fontana l'assessore Galliera ieri sera nella riunione di tutti i sindaci lombardi a cui abbiamo partecipato anche noi presenti del municipio sono stati molto chiari le misure sono adottate per evitare dei luoghi nella quale ci sono tantissime persone affollati ammassati diciamo che i ristoranti rispetto ai pub sicuramente non stai attaccati l'uno con l'altro così come succede nelle discoteche per fare un esempio i disco pub cosa che io ovviamente vista la mia età di 30 anni li frequento un pochino di più io li frequento meno ok no 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 volevo dire questo secondo me secondo me no io con te non ci vengo al ristorante secondo me neanche al pub allora ci sono da fare delle distinzioni i bar all'interno delle stazioni rimangono aperti i bar all'interno degli hotel rimangono aperti i bar a sostegno della ristorazione cioè dove c'è la licenza anche della ristorazione rimangono aperti chiudi solamente i pub e i bar come diceva prima dove dicevi tu perché c'è più assembramento dalle 18 dottore ma quindi al ristorante io non prendo niente se c'è un ristorante dove ci sono i ristoranti dove ci sono i tavoli tutti vicini sono quelli che preferisco quelli più però ti posso dire che io ho un ristoratore che è molto conosciuto adesso c'è il senso di colpa adesso dice ah io vado anche no ti posso dire che mi sono arrivati i messaggi da ristoratori che mi hanno detto noi adottiamo tutte quante le misure anzi piuttosto togliamo qualche tavolo in modo di fare da poter rimanere più larghi e di non avere ancora meno problemi rispetto a quelli che si possano immaginare il ragionamento è stato fatto in maniera corretta nell'applicazione di questa ordinanza perché nei bar e nei pub l'happy hour e quant'altro la gente si ammassa mentre al ristorante quantomeno sono tutti seduti se poi tolgono qualche tavolo si stanchi l'arri per cui sicuramente ha una sua logica si muovono di meno ha una sua logica quindi non è una stupidaggi è una cosa con una logica no perché oggi noi lo commentavamo qui dobbiamo spiegarlo anche alle persone perché l'italiano come quando gioca alla nazionale sono 60 commissari tecnici sono 60 milioni di esperti sull'argomento hai ragione dottore come ci sono 60 milioni di commissari tecnici della nazionale io condivido la spiegazione assolutamente capisco eccetera dopodiché non è che i bar sono uguali ai pub in realtà cioè c'è un'assimilazione ma gli happy hour il problema sono i bar che ormai gestiscono tutti happy hour dove ti ammassi tutti a prendere le patatine ma anche perché tu parli di Milano però Diana tu parli di Milano se vai fuori da Milano e vai nei paesini dove c'è quel singolo bar che fa da tutto quanto lì c'è la resta di persone forse lì ecco anche con i vecchietti a Milano non è così perché ci giocano a briscola all'età del pomeriggio invece a Milano c'è quello che fa l'happy hour ma c'è anche quello che è semplicemente però ha una sua logica poco però nell'ordinanza della regione Lombardia ha detto correggetemi se sbaglio nel prossimo weekend nei centri commerciali saranno aperti solo i supermercati quindi gli altri negozi sono chiusi ma questo perché per evitare l'assemblamento nei negozi e beh durante fine settimana i centri commerciali si riempiono questo ma è il luogo di maggior socializzazione quindi rimarranno aperti solo i supermercati dentro i centri commerciali quindi vuol dire che il centro commerciale è in funzione rimane aperto solo del supermercato solo del supermercato quindi come se ci fosse solo del supermercato a Sesso San Giovanni domenica Di Stefano ha chiuso però anche il centro Vulcano quindi anche il supermercato da quello che mi risulta diciamo che le ordinanze sindacali il sindaco le può fare in assenza di quella regionale è la massima autorità igienico-sanitaria al sindaco assolutamente sì quindi scusate Sala può anche decidere di chiudere i supermercati però Sala tanto che nelle facche della regione salvo prescrizioni da parte dei sindaci però Sala anche oggi abbiamo avuto consiglio e l'ha ribadito peraltro era partito per prima con la proposta delle scuole perché giustamente c'erano sollecitazioni e aspettava l'ordinanza della regione che è arrivata anche un po' tardi però capisco anche le esigenze ma ha detto che si atterrà assolutamente a quanto alle disposizioni della regione se non ci mette quel pizzico di polemica sai perché te lo dico ma in particolare non tanto parlo delle scuole ma è stato davvero un problema perché siccome non arrivava l'ordinanza tutti erano d'accordo di chiudere le scuole Sala l'aveva detto tutti si sapeva che volevano chiudere ma non si capiva se avrebbero chiuso sospeso le attività educative e quindi andava a lavorare il personale ATA o se invece sarebbero state chiuse e questo era il problema esatto ma abbiamo dovuto aspettare c'erano tutti i dirigenti che chiamavano che non avevano capito se dovevano andare a lavorare oppure no perché finché non c'era la fine e allora Diana e lo so ma è arrivata le 9 di sera fammi un regalo Diana fammi un regalo ma io mi rendo conto lo sai che no vai a capire veramente le motivazioni ma le ho viste poi appena finisce la trasmissione se vuole te le spiego per evitare di fare polemiche tra di voi ma non è una polemica è stato un problema ok ci fermiamoci un po' di pubblicità poi parliamo anche del fatto che ad esempio sui siti online la mucchina costa sì 58 euro ma è vero la trovi no 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 tutte e qua c'è il Codacons che ha fatto la denuncia perché insomma è assolutamente è una truffa ma la procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di manovre speculative per suggenere di prima necessità in relazione alle vendite a prezzi per fortuna a tra poco allora sui siti la mucchina prezzi alle stelle gel disinfettanti anche le mascherine dottor Clerici gli spoculatori ah e poi c'è un altro problema a proposito di delinquenti di truffatori è arrivata la notizia anche questa dalla regione Lombardia che ci sono dei sedicenti carabinieri e tecnici della TS che vanno nelle case degli anziani suonano la porta e dicono buongiorno siamo qui per fare un tampone per vedere se lei ha il coronavirus anche dell'SOS gli apri la porta anche dell'SOS non solo è arrivata la comunicazione anche dell'SOS non solo i carabinieri non solo i carabinieri quindi si presentano come personale paramedico o come carabinieri per effettuare il tampone non aprite la porta a questa gente sono dei delinquenti che entrano in casa vogliono entrare in casa per derubarli cioè questa cosa che c'è lo sciacallo anche in un momento così è una roba schifosa ogni disastro sui sciacalli d'altra parte era anche prevedibile che sbucavano i sciacalli però organizzati immediatamente perché è stata una cosa velocissima non ci meraviglia non ci meraviglia a me è proprio tristice però bisogna educare gli anziani come sempre a non aprire la porta assolutamente no sai perché se si presenta uno dicendo sono un carabiniere c'è pure la divisa probabilmente la divisa affettata per carnevale che nessun carabiniere a meno che non sia stato chiamato dall'interessato si presenta a casa di nessuno e neanche nessun personale del paramedico né personale paramedico né polizia locale né infermieri né medici va a domicilio a fare i tamponi se non è stato chiamato dall'interessato punto sì e per quanto riguarda invece queste truffe online sui prezzi che salgono vertiginosamente su ammuchine e mascherine cosa si può fare chiedo ai politici e ai medici ma allora perché il Codacon si ha fatto un esposto sicuramente l'hanno aperto sicuramente la cura deve indagare denunciare sicuramente questo si è fatto comunque sono azioni che sono assolutamente illegali e speculative senza ombre di dubbio detto questo forse forse all'interno dei luoghi dove c'è una grande resta di persone come per esempio la metropolitana mettere a disposizione anche da parte del comune quelle che è che ne so per esempio la mucchina i distributori di la mucchina non sarebbe una brutta idea bravo piuttosto che le mascherine anche visto che sono comunque mascherine un'usaggetta l'importante è che si riesca aspetta che dottore le mascherine le mascherine sono un po' di battuto però il gel mettete il gel si dai il gel sarebbe un ottimo il gel disinfettante mettetelo sul coinvolio o fuori dai coinvolio calma calma dottore il distributore di gel io vorrei vedere la ventisettesima persona che va a cliccare ma ci sono quelli automatici che metti sotto la mano non sono tutti così assolutamente bisogna ragionarci evidentemente beh ma se prendi anche quello di plastica lo tocchi ma dopo ti lavi le mani no no non è così non è scontato assolutamente assolutamente allora contro la speculazione sicuramente la procura si muove bisogna agire tutti al limite arrivare anche a non comprare finché i prezzi non rientrano nella norma non è una legge di mercato che in questo caso maggiore la richiesta deve aumentare il prezzo non esiste assolutamente al limite ripeto in caso candeggina chiunque ha la candeggina che oltretutto c'è anche profumata la diluisca se la porti se si ha l'occasione di lavarsi le mani si lava le mani ah la diluisce ecco allora oggi giravano in rete dei filmati che sono anche questi delle fake che dicevano ecco come fare la mochina e dicevano metti un po' di sale no 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 ecco non si costruiscono no giuro è pericoloso metti il sale metti il sale altra roba che non so e poi metti una specie di colla di pesce e viene giuro è pericolosissimo nessuno si inventi cose strane o emuli pseudo scienziati pseudo inventori l'unica cosa che si può fare è diluire la candeggina ma quanto diluirla in un rapporto 5 a 1 5 parti di acqua e uno di candeggina e uno di candeggina sì perché altrimenti è corrosiva questo potrebbe essere questo è sufficiente per cui 5 parti di acqua ambra lo facciamo circolare è sufficiente per fare un disinfettante fai da te se trovi la mochina in negozio l'acquisti e utilizzi quella e non è corrosiva 5 parti e una parte non è corrosiva si può usare sulle mani assolutamente 5 parti di acqua e una di candeggina non è corrosiva ma però non dimentichiamoci di lavarci per 20 secondi poi le mani non è che io verso la candeggina diluita o la mucchina però dottore io mi lavo le mani quando torno a casa mentre sono in giro se tocco qualcosa e ho il mio boccetto di questa roba qua me ne posso inserire in questo modo assolutamente meglio questa candeggina diluita delle salviettine no beh le salviettine sono utili anche loro purché poi vengono eliminate in contenitori chiusi non vengono lasciate all'aperto no salviettine ancora meglio perché sono monouso è un contenitore in genere la confezione che usa solo una persona per cui quello sarebbe ideale questo è un consiglio che possiamo dare girare e far salviettine quelle non le ho ancora viste scomparire dai supermercati giusto? perché non ci sono ancora arrivati ma sono anche un po' più care beh allora consiglio compratevi un pacchetto di salviettine ve lo mettete nella borsa quindi potete prendere tram metropolitana e treno e vi pulite le mani assolutamente lanciamo questa campagna di portarvi le salviettine non vogliamo arricchire i produttori di salviettine ma ci sono anche da poco perché sono domani aumenta il prezzo però adesso vedrai che domani salgono i prezzi anche di quale però volevo dire che stavo cercando ma non lo trovo che c'è un supermercato mi pare del municipio 3 perché l'avevo visto sempre su facebook in cui era esaurita la candeggina non la mochina la candeggina quindi hanno ha parlato di una parte cinque parti va bene no sai perché perché in molti uffici banche l'ufficio aperto al pubblico si puliscono e quindi è stata usata di più andiamo in un bar andiamo in un bar a sentire come vanno gli affari vediamo il servizio che si intitola intervista la gente c'è quella che c'è però molto meno rispetto al solito ovviamente però c'è guarda le brioche ci sono avanzate a quest'ora normalmente sono vuote come i scaffali delle selunghe quindi rispetto a una giornata normale quanti clienti meno sono passati questa mattina meno del 50% ecco voi adesso cosa farete nei prossimi giorni state aspettando di capire un po' come evolve la situazione sì noi stiamo preparando normalmente come al solito sappiamo già che c'è meno gente perché ci sono delle dite che fanno lavorare il personale col telelavoro quindi non ci sono però noi speriamo che qualche gente ci sia non è un locale sovraffollato quindi comunque sia come stiamo parlando io e te in questo momento penso che la gente ci possa venire e stiamo aspettando l'ordinanza per capire se noi come locale dobbiamo chiudere le 18 oppure no questo ancora non lo sappiamo non è chiaro c'è tante voci in giro per cui non sappiamo neanche noi esattamente come comportarci il problema adesso apriamo il discorso economico intanto ci sono delle nuove dichiarazioni del premier Conte che dice bisogna evitare che i governatori adottino fuori dalle aree di contagio iniziative autonome non giustificate non è possibile che tutte le regioni vadano in ordine sparso perché le misure rischiano di risultare dannose quello che dicevamo prima per l'Europa ma anche in Italia una cabina di regia anche a livello nazionale domani incontrerò tutti i governatori i provvedimenti vanno innanzitutto concordati nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità dobbiamo avere fiducia reciproca su questa base però tutti ci devono ascoltare una misura sproporzionata e non concordata rischia di essere dannosa con chi ce l'ha se mi fa l'esempio di una iniziativa non concordata con tutti i governatori delle regioni interessate allora sono d'accordo quello che dice Conte sarebbe giusto ma io non ho nessuna informazione che non sia diciamo concordata con tutti i governatori anche perché lui l'ha firmata non so di che cosa stia parlando ma io penso che abbia detto anche altro solo che adesso lo cerchiamo mandiamo la fascia e cerchiamo non riesco a lei ma guarda che mandiamo la fascia e cerchiamo gli occhi ma non lo so mentre vai al pub allora intanto c'è il Kuwait che ha vietato i voli dall'Italia e dalla Sud Corea quindi siamo stati in qualche modo bannati mi è arrivata invece una notizia che arriva dalla regione che vi leggo cosa dice Fontana giudica l'ipotesi tracciata dal Presidente Conte di avvocare a sé al governo i poteri in maniera sanitaria cioè quindi Conte ha chiesto di portare a sé i poteri in maniera sanitaria Rizzi corregimi se sbaglio perché Fontana gli sta rispondendo parole in libertà dice Fontana che mi auguro siano dettate dalla stanchezza e dalla tensione di questa emergenza domani riferirò al Presidente Conte che la Lombardia sta dimostrando di essere all'altezza della situazione sta gestendo con competenza ciò che sta accadendo perché pare che Conte abbia in qualche modo accusato l'ospedale di Codogno io dico tra virgolette dico pare e quindi abbia detto è meglio che centralizziamo la gestione della sanità da quello che ho capito io è andata così e Fontana gli sta rispondendo Rizzi correggimi se sbaglio sì è un'ansa di 20 minuti fa sì confermo anche io spero che questa sia una dichiarazione di Conte fatta le 22 di un giorno probabilmente difficile per il Presidente del Consiglio dei Ministri che sta in questo momento vaneggiando quindi la Regione Lombardia ha adottato tutte le misure necessarie tra l'altro vorrei ricordarlo questo è un provvedimento che ha doppia firma che appunto qua la colpa dell'epidemia del coronavirus aspettate scusate è tutto il divenire è di un ospedale che non ha rispettato i protocolli il Premier Conte ha trovato il responsabile quindi lui dice non è colpa mia ma è colpa dell'ospedale di Codogno che non ha rispettato i protocolli però scusate prima di dire che è folle bisogna capire la preoccupazione l'abbiamo sempre avuta ma abbiamo sempre risposto di non sottovalutando il fenomeno non possiamo prevedere l'andamento del virus è chiaro che c'è stato un fuocolaio e da lì si è diffuso anche per una gestione non del tutto propria e secondo protocolli da parte di una struttura ospedaliera non fa nome il Premier ma è ovvio che sta parlando di Codogno al di là di questo continuiamo con il massimo rigore stiamo ricostruendo una mappa una tracciatura genealogica molto curata ma non siamo ancora arrivati a individuare il paziente zero evidentemente poi deve aver detto anche qualcosa tipo voglio avvocare a me le competenze perché questo spiega perché Fontana poi gli abbia risposto in quel modo beh guarda io spero proprio di no però allora perché Fontana gli risponde così non io spero proprio di no perché lo spero vivamente adesso non è il periodo non è il momento di fare polemiche e non voglio andare a commentare le parole di Conte che ripeto sono dettate dalla stanchezza probabilmente ha passato una giornata difficile probabilmente sarebbe meglio che evitasse di parlare dopo le ore 19 dopo le ore 20 perché se questo è il risultato no anche perché questo è il momento della solidarietà vuol dire che sta vaneggiando la regione Lombardia che sta agendo in modo a dire poco eccellente adetta di tutti di tutti i medici di tutti gli esperti quindi proprio se c'è un soggetto che non deve essere attaccato in questo momento penso proprio che sia la regione Lombardia che tra l'altro ha aspettato proprio il governo per fare una cosa insieme al governo e firmare un provvedimento insieme al governo aspettando e lo sottolineiamo e adesso invece si cerca un capo respiratorio all'interno di un ospedale però scusate è pericolosissima questa cosa siccome non sappiamo di che cosa stiamo parlando mi sembra inutile e poi effettivamente cerchiamo di essere poi più informati per commentare però non mi sembra così grave se c'è stato qualcosa dell'ospedale di Codogno che non è andato bene di cui non sappiamo ma Diana per favore no ma scusa non significa regione Lombardia ma non vuol dire nulla come succede ci sono magari delle persone che non hanno rispettato il protocollo di regione Lombardia voglio dire ma qual è il tema così scandalizzante io non credo ma Diana stai parlando del Presidente del Consiglio appunto non credo che il Presidente del Consiglio dita una cosa del genere probabilmente non è adatto a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri questo signore ma insomma ecco io però adesso questa deduzione si dedica ad altro io speravo di non arrivare a questo è la mia staglia di arrivare a questo scusate io sto cercando la notizia le dichiarazioni di Conte c'è la prima sapere di che cosa si sta parlando e questo figlio lo ha Conte no fermi fermi dai visto che non ho parlato pronti ecco cosa ha detto Conte ecco cosa ha detto Conte pronti a contrarre i poteri dei governatori se il coordinamento tra i sistemi sanitari nazionali non riuscisse a contenere il coronavirus ecco perché Fontana ha detto irricevibile quello che ha detto Conte posso dire una cosa visto che è un po' che non la dico prima di tutto voglio lanciare un messaggio ai cittadini tutto quello che vi sta succedendo i cittadini della Lombardia e anche delle zone rosse è una medicina le medicine purtroppo delle volte sono amare ma ricordate che servono sempre per guarire e guarire una situazione di un intero organismo di 10 milioni di persone che è la regione Lombardia quindi va presa va sopportata con filosofia con stoicismo ma bisogna prenderla dobbiamo prenderla poi il messaggio che dobbiamo lasciare da qui non è quello delle polemiche perché la cosa che più spaventa le persone è vedere che si litiga che non c'è una linea chiara allora le regioni hanno il controllo della sanità nel loro territorio la regione Lombardia sta facendo questo io non credo come ho già detto prima quindi non sto aggiungendo niente che sia colpa di un ospedale ma che sia detonata in un ospedale quindi sto ricapitolando quello che è successo intanto è arrivata una circolare interna all'Europarlamento a casa 14 giorni chi è stato nel nord Italia eh? circolare dell'Europarlamento siamo il terzo paese quindi vuol dire che i nostri eurodeputati cioè ciocca la sardone devono stare qua questo lo capisco l'Italia era razzista adesso fatemi capire l'Europarlamento che tra l'altro la maggioranza è razzista ma no ma no siamo in Europa e abbiamo 230 contagiati siamo il terzo paese con più casi positivi è normale che il Kuwait dice legge legge la Cina ok Corea e beh ma fa una sua politica sovranista non è che comunque allora ricapitolando ricapitolando non quelli degli altri ricapitola che cosa ha detto oggi non adesso o stamattina ha detto che noi in Italia abbiamo fatto i controlli abbiamo scopè poi a un certo punto la sera quindi ha detto siamo bravi perché abbiamo tanti positivi perché abbiamo tanti controlli che ha le tue spalle per fortuna le tue spalle in diciamo forma cartonata probabilmente dovrebbe essere sempre così stamattina dice una cosa e stasera ne dice una stasera dice bisogna evitare che i governatori fuori dalle aree di contagio iniziative autonome non giustificate sta parlando di governatori di altre regioni appunto io non capisco non parla della Lombardia non parla della Lombardia infatti perché dice iniziative autonome non giustificate fuori dalle aree di contagio che non sono queste scusami la regione Lombardia non ha preso un'iniziativa autonoma ha firmato lui scusa fermi non parla della Lombardia non parla della Lombardia c'è un'ansa sull'ospedale di Codoglio ma quella è un'altra cosa però è un'altra cosa no ma fidatevi no scusami no non ci fidiamo bisogna evitare che i governatori adottino fuori dalle aree di contagio iniziative autonome non giustificate sta parlando di altre regioni come dice è una cosa poi ha detto che la roba di Codogno che Codogno ha usato i protocolli ma domanda ma i poteri centralizzati sono riferiti a quella di Codogno o sono riferiti all'altra però siccome non lo sappiamo inutile dire cose che avete detto inutile ma c'è vero e comunque non è giustificato ma non è giustificata la cosa posso dire fermi parlate tutti assieme ma posso dire ho sentito commenti che non si sa ha detto due cose una che Codogno ha detto diverse cose e una diversa all'altra uno che Codogno non ha rispettato i protocolli uno che sia stati bravi uno che Codogno non ha rispettato e uno che i governatori fuori dalle aree di contagio devono fare quello che dice lui quindi noi non c'entriamo ha detto queste tre cose non sono molto convinto di quello che state dicendo ma no le sto leggendo non è che le sto inventando sì ma a un certo punto lui dice pronti a contrarre potere i regioni scusi parla delle regioni del sud perché ci sono delle regioni che stanno andando in prodotto allora fai un distinguo non puoi parlare di tutte quante le regioni stiamo commentando delle ans però di ansa sono dichiarazioni che cosa? la CNN che cosa dice? che fa un servizio sull'Italia no ma allora lanza la puoi leggere perché qua dice aspetta se quello bravo fermi tutti cosa dice dottore se non si riuscisse a contenere il coronavirus punto il governatore il governo gli occhiali però li devo prendere il governo è pronto a misure che contraggono le prerogative dei governatori se non si riuscisse a contenere il coronavirus e allora in quale regioni è in questo caso quindi il contrario riguarda tutti guarda che è più importante come ci guarda il resto del mondo piuttosto che come noi guardiamo il nostro ombelico perché sta succedendo qualcosa non è una roba io mi attengo le chiarazioni di Conte che dice che sia stati bravi che abbiamo fatto i controlli che abbiamo fatto emergere i numeri dei contagiati giusto? sì dicendo di fatto che gli altri paesi non lo fanno è questo quello che ha detto Conte sì è questo quello che ha detto questo poi bisogna vedere ma scusa ti devi basare sui dati i dati suono che sono 229 positivi in Italia siamo il terzo paese e da lì allora vi rileggo tutto insieme così almeno si capisce ma questo gli altri vedono non è che guardano queste polemiche per questo che poi bloccano i confini sicuramente ci sarà un impatto economico per la sospensione delle attività nelle zone interessate ma noi siamo pronti a fronteggiare questa emergenza anche economica ce la metteremo tutta per sollevarci e contenere l'impatto negativo riferendosi alle misure dei vari governatori il premier ha inoltre spiegato che tutti ci devono ascoltare seguire le indicazioni che forniamo a livello nazionale non è possibile che qualcuno vada in ordine sparso se il coordinamento tra i sistemi sanitari nazionali non riuscisse a contenere il coronavirus il governo è pronto a misure che contraggono le prerogative dei governatori chiedere al presidente del Consiglio Ministro di essere leggermente più chiaro in questo caso perché non si è capito nulla posso dirlo? certo ecco è una mananza poi domani la capirò in meglio io non ho capito nulla mentre invece che cos'è che ha letto dottore lei dalla CNN ha fatto un servizio sui casi italiani parlava di outback quindi di epidemia se vogliamo di coronavirus in Italia ed è quello che ci deve preoccupare è che già la CNN focalizza un servizio intero sul coronavirus in Italia dichiarando quanti morti quanti casi e quant'altro perché la CNN eh sì però noi abbiamo iniziato la trasmissione dicendo di stare tranquilli adesso mi dite grave no no possiamo meravigliarci se poi ci sono delle ricadute a livello europeo invece di fare polemiche dovremmo agire sull'estero dobbiamo arrivare a tranquillizzare la CNN dobbiamo arrivare a tranquillizzare la CNN vai a fare un servizio anche in Francia e chiedi di fare i tamponi anche in Francia eh no facciamo dire questa cosa scusi facciamo dire un politico facciamo dire non andiamo in Francia a fare i tamponi verifichiamo quant'è la diffusione in Europa perché qui l'Organizzazione Mondiale della Sanità che darà indicazioni all'Europarlamento non dimentichiamoci che ad esempio la Svizzera è vero c'è le montagne c'è il cioccolato e quant'altro però non risponde a queste regole ma che dia indicazione è che si selezionino punti dove ci sono dei contagiati dei positivi perché li ha la Germania in misura limitata li ha la Francia li ha l'Inghilterra iniziano a selezionare 100 persone per verificare le positività probabilmente anche lì i numeri salgono allora non è più l'Italia è un problema globale ma è un problema che rientra nella norma come numeri finché si concentra il tutto su una nazione malauratamente l'Italia ma poteva essere una qualsiasi nazione è chiaro che diventa una cuspide estremamente importante e ci si focalizza solo sulla cuspide noi dobbiamo guardare tutto l'insieme e questo è l'errore che si sta facendo benvenga Ricciardi come consulente al Ministero perché ha una visione completa della situazione è uno che sa ragionare su queste cose per cui mi auguro che a livello di OMS visto che lui è nel board possa decidere che anche le altre nazioni sottopongano le persone a screening ove ci sono stati i fattori e in questo modo il fatto di dire noi abbiamo tanti controlli e tanti positivi può essere steso anche agli altri paesi e così eviteremo di essere la macchina assolutamente di cui si parla ok giusto Conte si deve imporre con gli altri paesi in questo senso assolutamente sì assolutamente sì adesso io credo adesso poi ho tutta la dichiarazione intera adesso ve la leggo ma la stanchezza magari e tante cose però credo che la solidarietà agli operatori sanitari di Codogno ma di tutta Italia che stanno operando in questa situazione di disagio a Codogno poi sono dittime poi sono anche dittime il Presidente del Consiglio deve stimolare devo mandare la fascia che non mi ricordo più sì allora mandiamo la fascia e poi vi leggo esattamente la dichiarazione di Conte così facciamo chiarezza tra poco Allora stiamo cercando di ricostruire il perché Fontana il Governatore Lombardo ha risposto a Conte dicendo hai detto una cosa irricevibile cosa ha detto Conte? ha detto questo non prendiamo nulla sotto gamba altrimenti non avremmo adottato misure di estremo rigore non possiamo prevedere l'andamento del virus c'è stato un focolaio da lì si è diffuso anche per una gestione di una struttura ospedaliera e non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi e ha contribuito alla diffusione noi proseguiamo con massima cautela e rigore ovviamente sta parlando di Codogno e spiega noi non siamo ancora all'individuazione del paziente zero stiamo individuando una mappa che riguarda una tracciatura ma non siamo ancora nelle condizioni di dire da dove sia venuto poi ha detto in questo momento è difficile prevedere in modo certo l'evoluzione del contagio quello che è certo che seguiamo le raccomandazioni degli esperti quali sostengono che le misure restrittive finora adottate dovrebbero avere un impatto positivo abbiamo concordato un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri per recepire misure che erano state concordate anche con le regioni interessate in modo da rendere efficaci le misure che riguardano la sospensione di tutte le attività punto se il coordinamento tra i sistemi sanitari nazionali non riuscisse a contenere il coronavirus il governo è pronto a misure che contraggano le prerogative dei governatori Alan vuol dire se non ci riuscite faccio io io la capisco sì però non dice se la Lombardia non sta agendo nel modo corretto dice se le regioni quindi appunto situazioni che ci sono nel paese poi che il protocollo a Codogno all'inizio non sia stato io non ho le competenze Diana a prescindere da tutto però perdonami nel momento in cui dici se non riesce a contenere il coronavirus all'interno della regione Lombardia perché poi in particolare la regione Lombardia in quei singoli casi nel nord Italia nel nord Italia se il coordinamento tra i sistemi sanitari non riuscisse a contenere il coronavirus c'è in Lombardia in principio al mondo sì scusami ma non in venere vuol dire anche la Basilicata che dice che vai in quarantena quello è a contenere se lui dice nel caso in cui le regioni non riuscissero a contenere quindi queste quattro regioni in particolar modo il coronavirus se ci prendiamo tutti i poteri noi è evidente che si sta riferendo a quelli scusami ma io lo leggo io lo sto leggendo fatelo finire che devo seguire la trasmissione e soprattutto devi essere sicuro che il coronavirus non arriva in nessun altro modo all'interno del nostro paese e con queste prescrizioni queste modalità che stiamo notando in questo momento non potrai mai essere sicuro che il coronavirus non arriva in altro modo rispetto a una diffusione che arriva proprio da queste quattro regioni perché il momento è la premessa che non ci trova d'accordo lui non parla delle quattro regioni secondo me ma parla del paese ma leggilo se non si riesce a contenere il coronavirus e stava parlando del paese stava parlando delle regioni poi domani adesso verrà fuori però io la leggo posso dire che se parliamo al condizionale rivolta alla regione Lombardia è offensiva così come alla regione Veneto così come alla regione Piemonte è offensiva alla faccia dei pieni poteri e dell'autonomia che avevano secondo me non si riferisce alla Lombardia però il fatto che Fontana abbia risposto mi fa pensare che in realtà si riferisca alla Lombardia Fontana non è pazzo posso dire una cosa sull'ospedale di Codogno è evidente che da come è detonata questa cosa come ho detto prima era già in circolazione lo dice anche il direttore dell'istituto Susacchi era già in circolazione da prima adesso colpevolizzare eccessivamente un ospedale per quello che è successo che per di più sono stati vittime ci sono 5 parasanitari che sono stati contagiati non mi sembra giusto dobbiamo rimanere uniti perché la guerra non è tra di noi è contro questa epidemia risolviamo vinciamo poi faremo tutte le considerazioni del caso faremo i conti dopo io sono d'accordo solo per giustificare anche il fatto che a livello globale ci siano dei numeri che noi non conosciamo le borse stanno carando di 4 punti in tutto il mondo non solo in Italia non ci sarebbe spiegazione che il Dow Jones crolli del 3,56 se non hanno casi anche perché noi siamo un paese che voglio dire da noi ci può stare ce l'abbiamo in casa gli Stati Uniti meno 3,56 il Dow Jones e non hanno in casa il corona per il virus contagio aprire le borse è dappertutto non investono in sanità Trump ha tagliato le spese sanitarie e poi ci troviamo davanti a queste Bill Gates ha scritto un libro bellissimo su questo e poi ci troviamo davanti a queste abbiamo perso di vista quali sono le cose più importanti secondo me la sanità e la scuola la sanità la salute e la loro istruzione ormai abbiamo una brandina di là per il dottore che vive qua grazie a tutti in quarantena qui è in quarantena anche qua va bene grazie Schiavone grazie a De Maschi grazie a Piscina Rizzi grazie a voi grazie a voi grazie a Regia Ambra Fietta e Silvio Valsecchi ci vediamo venerdì per Linea d'Ombra buonanotte grazie a tutti grazie a tutti